con Ilaria Stradi, dottoressa in biologia e indirizzo etologico laureata a Parma. L'ultima volta abbiamo parlato di musica, questa volta cambiamo totalmente argomento e parliamo di animali. Vuoi dire qualcosa in anticipo? Parleremo appunto del gioco animale e vedremo tante cose molto curiose in realtà che riguardano gli animali. Perché so che tu hai lavorato presso il Parco Natura Viva per un annetto circa e ti occupavi di primati e papagalli, giusto? Sì, mi sono occupata di primati e degli uccelli in particolare, di papagalli. Ok, quindi io non ho, anzi, ho qualcos'altro da dire perché questo ciclo di conferenze c'è grazie ai nostri sponsor e quelli vanno sempre ringraziati, se no poi se la prendono. Ringraziamo Infolog, che ha collaborato alla creazione di questo ciclo di conferenze, Modena Radio City, il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Modena e Reggio, l'Associazione Culturale JW Drapper e per la fiducia, con la concessione del patrocinio, il Comune, l'Università di Modena e il Piano Nazionale a Lauree Scientifiche. Adesso vi lascio a Dilaria e buona conferenza a tutti. Allora, buonasera a tutti. Stasera parleremo appunto del gioco negli animali e vorrei partire facendovi vedere un video. Questo è Ross, uno scimpanzè di sette anni. Mostrandogli numeri da uno a nove, li riordina nel modo corretto, indicandoli uno a uno. Ogni volta che ci riesce, riceve un premio, un piccolo pezzo di frutto, come la mela. Ma ora il test viene reso difficile. Non appena lo scimpanzè preme il numero uno, il resto dei numeri viene nascosto. Deve ricordarsi dove erano i numeri e schiacciare i quadrati bianchi nel giusto ordine. Le posizioni dei numeri sono totalmente casuali. Di volta in volta ha successo, alla velocità della luce e con un'accuratezza del 100%. Ora è il vostro turno. Ce l'avete fatta? No? Provate di nuovo. Ma questa volta riproduciamo a velocità di mezzata. Ancora troppo difficile? Provate ad un quarto della velocità. Tornando a velocità normale, ci rendiamo conto di quanto straordinaria sia la memoria degli scimpanzè. E allora, confrontiamoli con l'uomo. Nessuno ha capito il perché, ma i bambini tendono ad essere più bravi degli adulti in questo tipo di giochi di memoria. Abbiamo chiesto ad alcuni bambini di 9 anni di fare una prova. Impiegano molto più tempo a studiare i numeri prima di iniziare. E comunque, il più delle volte arrivano al massimo al 4 o al 5. In rare occasioni, riescono a fare un po' meglio. Non male, ma ora sta di nuovo lo scimpanzè. Sembra proprio che la memoria a breve termine degli scimpanzè sia superiore alla nostra. Allora, questo video è solo uno dei numerosissimi esempi di studi che riguardano il gioco e le capacità di gioco sia nell'uomo che nei primati, in questo caso lo scimpanzè, che sono la specie più studiata in assoluto per quanto riguarda il comportamento animale. Allora, il gioco è un argomento molto studiato che interessa diverse discipline. In particolare la biologia, è un settore specifico della biologia che si chiama etologia, anche la psicologia, ma anche la sociologia e l'antropologia. Allora, che cos'è l'etologia? L'etologia è lo studio del comportamento animale. Il primo a utilizzare il comportamento animale è stato lui, Charles Darwin, famoso a tutti per aver elaborato la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Quello che Darwin ha fatto è stato utilizzare sia le strutture anatomiche dei vari animali, ma anche utilizzare lo studio del comportamento animale per capire che le specie sono tra loro imparentate, che le specie rispondono attraverso le strutture anatomiche e il comportamento agli adattamenti ambientali e quindi fanno fronte appunto ai cambiamenti ambientali, quindi le specie non sono fisse ma cambiano nel tempo. Grazie quindi a questi due parametri, cioè appunto l'anatomia e il comportamento, Darwin è riuscito a elaborare la teoria dell'evoluzione per selezione naturale. Il primo però etologo famoso è stato Corrad Lorenz, famoso per questo libro L'anello di Salomone, e ha vinto anche il premio Nobel per i suoi studi negli uccelli e lui si è occupato soprattutto dell'imprinting. Allora gli studi di Lorenz erano appunto sugli uccelli, lui aveva come animale domestico questa oca che vediamo nella foto, l'oca Martina, e quest'oca ha deposto le uova e lui cosa ha fatto? Invece che fare in modo che alla schiusa i pulcini vedessero la figura della vera madre, ha mostrato se stesso, quindi i pulcini hanno visto la sua faccia e da lì hanno iniziato a riconoscerlo come figura materna e quindi hanno iniziato a seguirlo come si può vedere nella foto sotto. Lui quindi ha capito che c'è una fase temporale specifica, in questo caso appunto la fase della schiusa, quindi il primo momento subito dopo la nascita, in cui gli animali memorizzano delle informazioni importanti, quindi apprendono delle informazioni importanti che gli servono per tutta la vita. In questo caso quindi abbiamo che nei questi pulcini la figura materna è stata appresa, mentre il comportamento del seguire invece è un comportamento innato, un comportamento dettato dall'istinto, quindi geneticamente programmato possiamo dire. Veniamo adesso al gioco. Se vi faccio vedere tutte queste immagini, penso che tutti quanti sapreste dirmi che questi animali stanno giocando. si riesce a riconoscere in modo abbastanza semplice che questi animali giocano, però in realtà se noi guardiamo quello che stanno facendo effettivamente, cosa fanno? Si danno delle zampate, si mordono il pelo, si tirano le orecchie, si saltano addosso, quindi tutti questi comportamenti, sì sono comportamenti di gioco, ma in realtà non solo, perché tutti questi comportamenti vengono manifestati durante la lotta. Quindi il gioco è un comportamento semplice da osservare e da individuare, però in realtà è molto difficile da descrivere e da definire. Una delle definizioni di gioco potrebbe essere questa. Il gioco è l'attività motoria postnatale che appare priva di scopo, nella quale schemi motori propri di altri contesti sono spesso usati in forme modificate e in sequenze temporali diversificate. Cosa vuol dire? Che il gioco sono tutti i comportamenti che manifesta un individuo che sono propri di contesti diversi, come ad esempio appunto abbiamo visto la lotta, la dominanza, la sottomissione, anche comportamenti sessuali, che vengono però manifestati in forme diverse. Magari se ti do una zampata, giocando te la do con meno forza, perché non ho intenzione di farti del male, o anche in sequenze diverse. Magari una zampata viene seguita da una monta, ad esempio, quindi in sequenze diverse e forme diverse. Sono stati fatti molti studi sull'evoluzione del comportamento del gioco per cercare di capire l'importanza che ha questo comportamento negli animali e per cercare di capire quanto l'evoluzione abbia favorito, oppure no, il manifestarsi di questo comportamento. Quello che noi vediamo in questa foto si chiama albero filogenetico dei primati, in questo caso ci occupiamo di primati di scimmie. Allora, questi sono tutti i primati attualmente viventi oggi. Vediamo che il tronco rappresenta come un progenitore comune a tutte le specie, da cui si sono staccate inizialmente, circa 65 milioni di anni fa, queste che sono le proscimmie, quindi i lemuri. Poi 35 milioni di anni fa si sono staccate queste, che sono le scimmie del nuovo mondo, tali tricidi, che vivono in America. 25 milioni di anni fa da questo progenitore comune si sono staccati i macachi, i babuini o comunque le scimmie del vecchio mondo, quindi quelle asiatiche e africane. 18 milioni di anni fa si sono differenziati da questo progenitore comune i gibboni. E poi sono rimaste le scimmie antropomorfe, che sono queste, da cui 12 milioni di anni fa si è staccato l'orango, circa 7-8 milioni di anni fa il gorilla, e vediamo che solo circa 6 milioni di anni fa si sono differenziati questi due animali, che sono lo scimpanzè e l'uomo. Infatti lo scimpanzè tra tutti gli animali viventi è quello a noi più vicino, perché condividiamo un progenitore comune, e l'abbiamo condiviso questo progenitore comune con lo scimpanzè, per tantissimi milioni di anni, e possiamo notare che lo scimpanzè è più vicino all'uomo che al gorilla, anche se magari potrebbe non sembrare così. E questi studi sul gioco, cioè questi studi sui primati, hanno permesso di capire una cosa, sono andati a vedere quanto tempo questi primati lo trascorrevano giocando, e hanno visto che più ci si avvicina all'uomo, più il gioco era manifestato, quindi vuol dire che l'evoluzione ha favorito questo comportamento, quindi se l'evoluzione ha favorito questo comportamento, vuol dire che questo comportamento ha delle funzioni precise. Allora, gli studi sul gioco sono resi possibili grazie all'intervento di numerosi ricercatori che hanno fatto studi in natura, lei è una studiosa di primati molto importante, Jane Goodall, lei ha istituito un centro di ricerca importantissimo in Tanzania e ha studiato gli scimpanzè, si è occupata degli scimpanzè per decine di anni e questo centro tuttora va avanti a raccogliere dati su questa specie e da questi dati si possono poi estrapolare numerose teorie sul comportamento del gioco. Perché gli scimpanzè? In etnologia quasi tutti gli esempi riguardano questa specie, questa specie è la più studiata in assoluto perché, come dicevo prima, è la più vicina all'uomo, infatti condividono con l'uomo circa il 98,6% di geni, quindi li rende più interessanti agli occhi dei ricercatori, questa caratteristica. Inoltre questa specie ha un'infanzia molto lunga, basta pensare che loro prendono il latte per 5 anni e poi vengono considerati comunque individui piccoli o giovani fino ai 10-12 anni. È molto importante per gli studi sul gioco avere un'infanzia lunga perché gli individui che giocano comunque sono i giovani, sono i piccoli e quindi più l'infanzia è lunga, più il comportamento di gioco è manifestato. Il gioco ha delle caratteristiche comuni, è un'attività piacevole, è un'attività divertente, non dà assofazione, è un comportamento spontaneo e volontario, necessita di un impegnativo da parte di chi gioca, non sembra avere un'utilità immediata al gioco. È prerogativa dei mammiferi, in particolare gli animali che giocano tra i mammiferi sono i carnivori, i roditori, i primati e i cetacei e alcuni uccelli, ma il gioco negli uccelli è stato osservato soltanto nei corvidi e nei pappagalli. Gli animali che giocano sono animali che non sono impegnati in attività di primaria importanza, perché quando è che un animale gioca? Quando non deve cercare cibo, non deve cercare da bere, non deve cercare una protezione dai predatori e quindi si svolge nei momenti di estremare la statezza, anche per questo motivo i piccoli giocano molto di più degli adulti, perché comunque hanno la protezione dei loro genitori. E un altro dato che sostiene questo è che gli animali in cattività, quindi gli animali che vivono negli zoo, giocano molto di più rispetto agli animali in natura, perché non devono far fronte alle attività di primaria importanza. giocano però anche gli adulti, per gli adulti il gioco, dopo lo vedremo meglio, ha una funzione coesiva. Il rango sociale è importante per quanto riguarda il gioco, perché i piccoli di madri dominanti giocano di più rispetto ai piccoli di madri subordinate, ad esempio. Inoltre però quando un individuo sale nella scala gerarchica è stato visto che diminuisce l'attività di gioco. Anche il sesso degli individui è importante per quanto riguarda il tipo di gioco, perché nei primati i maschi hanno un tipo di gioco molto più violento rispetto alle femmine. Allora, la definizione del gioco che abbiamo visto prima riguardava la struttura delle parti del gioco e non la funzione. Infatti prima abbiamo detto che nel gioco vengono manifestati dei comportamenti propri di altri contesti in sequenze diverse o in forme diverse. Però quali sono le funzioni del gioco? Ci sono delle teorie che cercano di spiegarlo. La teoria della pratica, secondo cui un individuo giocando fa pratica per apprendere informazioni che gli serviranno nel mondo degli adulti. La teoria della pulsione, secondo cui un individuo ha una motivazione interna ad agire, quindi a giocare e ad esplorare anche il mondo circostante. E la teoria del surplus di energia, secondo cui appunto gli individui hanno delle energie in eccesso che devono in qualche modo scaricare e la scaricano attraverso il gioco. Di queste teorie una non esclude l'altra, possono tutte andare bene. Il gioco è un comportamento e come tutti i comportamenti devono realizzare questa legge B maggiore di C, cioè benefici maggiori dei costi. Tutti i comportamenti che noi manifestiamo, senza pensarci, realizzano questa legge. Noi non facciamo nessun comportamento per i quali i costi sono maggiori dei benefici, anche se magari non ce ne rendiamo conto. Ad esempio, se pensiamo al comportamento di mangiare, mettendoci nei panni di un animale, la ricerca del cibo è molto costosa perché comporta un dispendio energetico e comporta che io, se cerco cibo, sono più esposto agli occhi di un possibile predatore, però il cibo comporta enormi benefici perché dà energia e senza il cibo noi non potremmo vivere. Vediamo nel disegno due specie di uccelli, due specie diverse. La specie sopra, vediamo che questi uccelli vivono in gruppi numerosi. Il vivere in gruppi numerosi è un vantaggio perché se io vivo in un gruppo numeroso è più difficile che un predatore, trovi me, piuttosto che un altro individuo. Quindi il gruppo numeroso è un vantaggio. Quindi possono permettersi una ricerca del cibo più lenta. Infatti loro cercano cibo beccando il terreno e cercando gli animali, i diversi insetti nel terreno. La specie sotto, invece, vive in gruppi più piccoli. Quindi questo potrebbe non essere un vantaggio perché vivendo in gruppi meno numerosi è più facile che un predatore trovi me piuttosto che il mio compagno. Però loro come fanno fronte a mantenere il rapporto benefici costi? Con un adattamento diverso. Cioè loro cercano cibo a vista poi vanno nel terreno, lo prendono e poi vanno via. Quindi rimangono per meno tempo esposti agli occhi dei predatori. Quindi questi sono due adattamenti diversi che utilizzano queste due specie per mantenere il rapporto benefici maggiori dei costi per quanto riguarda il comportamento di mangiare della ricerca del cibo. Allora andiamo a vedere quali sono le tipologie di gioco. Abbiamo il gioco individuale quindi un individuo che gioca da solo e può essere un gioco con strumenti, con oggetti oppure un gioco locomotorio quindi quando un individuo corre nell'ambiente e esplora l'ambiente circostante oppure un gioco sociale quando gli individui giocano tra loro giocano insieme e anche questo può essere un gioco con strumenti oppure un gioco locomotorio. Allora il gioco individuale. È stato visto che le specie diciamo più complesse più vicine all'uomo anche ad esempio che hanno un sistema sociale più complesso necessitano di un periodo di gioco che gli serve per apprendere dei comportamenti per i quali può non essere sufficiente soltanto l'istinto. Infatti un individuo che gioca più gioca e più fa esercizio fisico più acquisisce una padronanza del corpo quindi il gioco è molto importante appunto per fare pratica per qualunque tipo di comportamento. Per quanto riguarda i primati ma non solo il gioco è un'attività principale nel periodo infantile il comportamento del gioco il gioco però comporta un grande dispendio energetico quindi è un comportamento costoso ma appunto perché è molto costoso vuol dire che comporta anche enormi benefici e infatti attraverso il gioco in questo caso individuale si esercitano le loro abilità motorie e anche il gioco favorisce la manipolazione degli oggetti. Infatti i piccoli cuccioli quando giocano osservano gli adulti e cosa osservano? Osservano le interazioni sociali quindi osservano come gli adulti interagiscono tra loro le cure parentali quindi come si prendono cura dei loro piccoli osservano i comportamenti sessuali gli scontri quindi la dominanza e la sottomissione e osservano l'uso di strumenti poi tutti questi comportamenti li trasferiscono all'interno di contesti giocosi. Vediamo un esempio di un comportamento che viene appreso giocando sempre dagli scimpanze questo comportamento è la pesca delle termiti è un comportamento che manifestano tutti gli scimpanze in Africa e anche quelli all'interno degli zoo più o meno in modo simile tra loro in pratica gli scimpanze prendono qualche tipo di strumento come un ramo ad esempio e lo inseriscono all'interno di cavità del legno o del terreno in cui si annidano le termiti le termiti hanno questo riflesso attraverso cui quando trovano un corpo estraneo si aggrappano e quindi dopo si attaccano a questo strumento e poi lo scimpanze lo tira fuori e si mangia le termiti attaccate allo strumento adesso vediamo un filmato in cui vediamo che c'è un giovane scimpanze che si esercita giocando a manifestare questo comportamento questo è un individuo giovane avrà circa 6 anni e utilizza un filo d'erba in questo caso però vediamo che lo tira fuori ed è vuoto allora prende un altro strumento in questo caso è un ramo toglie le foglie e ritenta vediamo che l'ha tirato fuori lo mangia quindi è probabile che qualcosa sia riuscito a recuperare poi qua vediamo che si osservano tra loro si guardano provano ok quindi questi individui attraverso il gioco con strumenti riescono poi a fare pratica per comportamenti che gli serviranno una volta adulti e infatti il gioco individuale permette a un individuo di montare sequenze di comportamento sempre in modo diverso questo per facilitare la risoluzione di problemi futuri quindi il gioco è importantissimo perché ha una funzione di apprendimento quello che distingue il gioco dal lavoro è che nel lavoro il risultato è più importante del procedimento mentre invece nel gioco è più importante il procedimento del risultato nel gioco magari è più importante divertirsi piuttosto che risolvere un problema per questo il gioco diventa molto importante come apprendimento perché in realtà giocando l'obiettivo appunto è magari divertirsi e quindi il gioco è libero dal rischio di insuccesso quindi l'individuo è stimolato a continuare a giocare il gioco comparte una sospensione della frustrazione perché se giocando io trovo un ostacolo e lo allontano in modo comunque sereno senza essere troppo frustrato e il gioco facilita l'esplorazione dell'ambiente quindi tutte queste caratteristiche del gioco hanno fatto sì che secondo molti ricercatori il successo di un individuo una volta adulto dipende dall'intensità e dalla varietà delle sue esperienze ludiche quindi da quanto questo individuo e da quanto e come questo individuo ha giocato per appoggiare ancora di più questa teoria vi riporto uno studio fatto sui bambini in età prescolare quindi dai 3-5 anni e questo studio appunto mette in relazione il gioco e la risoluzione di problemi meccanici questi bambini dovevano recuperare un premio che era all'interno di un contenitore pieno di liquido loro non riuscivano direttamente a recuperare il premio avevano a disposizione due bastoni dovevano riuscire a trovare il modo di incastrare tra loro questi bastoni e recuperare il premio i bambini li hanno divisi in tre gruppi al gruppo 1 è stato mostrato come si incastravano tra loro i bastoni al gruppo 2 è stata dimostrata proprio tutta la tecnica quindi incastro i bastoni e li utilizzo per recuperare il premio il gruppo 3 non hanno mostrato niente ma sono stati lasciati giocare semplicemente con i materiali dello studio e hanno visto che i bambini del gruppo 3 erano abili tanto quanto quelli del gruppo 2 a risolvere il problema ed erano sia il gruppo 2 che il gruppo 3 più capaci del gruppo 1 a recuperare è il premio quindi un altro dato a favore dell'importanza del gioco per risolvere problemi quindi per l'apprendimento oltre al gioco individuale abbiamo anche il gioco sociale che è altrettanto importante per lo sviluppo di comportamenti e per la formazione e il mantenimento di legami sociali tra gli individui ovviamente il gioco sociale viene manifestato prevalentemente in specie sociali allora qui vediamo un altro video qua vediamo due cani che giocano tra loro gioco sociale tra due cani ma in realtà le dinamiche di gioco sociale sono molto simili tra tutti in tutte le specie qua vediamo che si mordono ci danno zampate poi c'è l'inseguimento in questo caso prima abbiamo quello scuro che insegue quello chiaro e poi il contrario quello chiaro insegue quello scuro vediamo che in questo caso qui ne abbiamo visto un contesto di gioco ma comportamenti tipici della lotta quindi morsi zampate inseguimenti però cosa vediamo che entrambi gli animali vogliono continuare questo gioco e comunque prima è uno che insegue poi è l'altro che insegue quindi non c'è una situazione di lotta di domenica grazie a tutti Grazie. Grazie. Ok, funziona? Allora, quindi abbiamo visto che entrambi questi cani volevano mantenere questo comportamento, quindi di sicuro non è un comportamento di lotta perché nessuno di due scappa e se ne va o si sottomette. Quindi nel gioco sociale gli animali imparano a interagire all'interno del gruppo sociale. Nel gioco sociale vengono quindi manifestati dei comportamenti tipici di altri contesti come l'aggressione, il comportamento sessuale, la dominanza e quindi anche la sottomissione, tutti in forme diverse o in sequenze diverse. Giocando, quindi io imparo a capire meglio come è fatto il mio compagno di gioco. Imparo le differenze che ho con lui in termini di grandezza, di forza, di reazione e anche della toleranza che ha nel confronto del gioco. Attraverso il gioco i piccoli vengono resi consapevoli del fatto che in un gruppo c'è una gerarchia di dominanza e nel gioco gli animali imparano quali sono i comportamenti di dominanza e di sottomissione, come manifestarli all'interno del gruppo. Attraverso il gioco gli animali imparano anche quali sono i comportamenti che sarebbe meglio evitare di manifestare. Qui vediamo un altro filmato di due leoncini che cercano di giocare con un leone adulto, un maschio adulto. I maschi adulti possono dormire anche in natura 20 ore al giorno, quindi questo animale probabilmente non ha molta voglia di essere disturbato. di giocare con i cuccioli. Infatti vediamo che li sta minacciando perché mostra i denti ed è chiaramente non intenzionato a giocare con loro. Però in realtà questo maschio cosa fa? Si è alzato e va via, cambia posto. Non li ha attaccati, li ha semplicemente minacciati mostrando gli denti senza fare del male perché appunto i cuccioli stavano semplicemente giocando. Il maschio ha capito che stavano giocando e quindi grazie al gioco hanno evitato uno scontro. Quindi grazie al gioco apprendono anche quali sono i comportamenti da non manifestare. Qui nel gioco sociale i cuccioli manifestano appunto comportamenti propri dell'aggressione ma attraverso un carattere più mite. Quindi il gioco è molto importante per controllare l'aggressività, per tenere sotto controllo l'aggressività. Un esempio che possiamo fare è quando andiamo a prendere un cane in un allevamento, quando prendiamo un cucciolo in un allevamento. Poi si cerca di fare quando è possibile la stessa cosa anche all'interno dei canili ovviamente. E quando ne prendiamo un cucciolo l'allevatore dovrebbe fare molta attenzione che questo cucciolo abbia fatto una fase di familiarizzazione che dura circa i primi tre mesi di vita. E in questa fase il cucciolo è tenuto a contatto con i fratelli della cucciolata e con la madre. Quindi si rapporta con loro, gioca con loro e attraverso il gioco li morde, morde gli altri cuccioli, morde la madre. Però mordendoli se il morso è troppo forte va incontro a eventi spiacevoli come l'interruzione del comportamento del gioco o magari un morso altrettanto forte, un pianto, un urlo. E quindi impara a inibire il morso. Quindi i primi tre mesi di vita sono fondamentali per il controllo dell'aggressività appunto attraverso il gioco perché imparano l'inibizione del morso. Il gioco sociale viene manifestato ovviamente negli animali sociali, quindi i mammiferi sociali tra cui i carnivori sociali sono ad esempio tutti i canidi, quindi i cani, i lupi, i coyote, le iene, gli sciacalli, le volpi e anche i felini, però tra i felini sociali abbiamo solo il leone, in realtà gli altri felini sono animali solitari, oppure all'interno dei primati. Tutti questi animali sono dotati di una corteccia cerebrale molto sviluppata. La corteccia cerebrale è importante per avere un sistema sociale complesso, quindi per riconoscere gli altri individui e se io in qualche modo voglio giocare con te o ti chiedo di giocare con me, questo vuol dire che io attribuisco a te, a altro individuo della mia specie, uno stato mentale e questo non è scontato negli animali, non è scontato poterlo definire o dimostrare. Visto che nel gioco sono presenti comportamenti tipici di contesti di lotta, bisogna che gli animali utilizzino dei segnali per capire appunto che si sta giocando, cioè che si vuole giocare e che non si vuole attaccare, quindi dei segnali che comunicano le intenzioni, quindi per poter dire questo è un gioco, quello che sto per fare è un gioco, quello che succederà è ancora un gioco e può per chiedere di giocare ancora. E questo quindi appunto io capisco che l'altro animale ha in qualche modo delle volontà, perché potrebbe non voler giocare con me, quindi questa è un'ulteriore prova che gli animali potrebbero riconoscere nei conspecifici uno stato mentale. Vediamo ad esempio per quanto riguarda i canidi, il segnale di gioco è l'inchino, chi ha dei cani penso che li abbia visti fare inchini per invitare al gioco sia i padroni che altri cani, l'inchino viene manifestato da tutti i canidi, vediamo che è una posizione non di minaccia, perché nell'inchino la testa, che è la parte potenzialmente pericolosa, viene tenuta in basso rispetto al resto del corpo e quindi anche in basso rispetto al compagno di gioco, quindi una posizione non di minaccia che serve per iniziare una sessione di gioco. Gli inchini vengono fatti oltre che all'inizio del gioco anche prima di comportamenti agonistici, prima di mordere un compagno fanno un inchino per far capire che questo morso è un morso di gioco e non un morso di attacco, è un morso che sicuramente farà meno male rispetto a un morso di dominanza ad esempio. Quindi questo attribuisce, questo implica che un individuo sappia quale mossa sta per fare e sappia quali effetti questa mossa può avere su un altro animale, quindi richiede un certo tipo di capacità cognitive, queste capacità di gioco. Ci sono delle differenze all'interno della famiglia dei canidi per quanto riguarda gli inchini, infatti i cuccioli di coyote ad esempio tendono a essere più aggressivi nel gioco rispetto ai cuccioli di cane o di lupo, questo perché nei coyote c'è una gerarchia di dominanza molto più fissa, molto più stabile rispetto al lupo o anche al cane e quindi per mantenere una gerarchia di dominanza stabile bisogna manifestare più comportamenti di aggressione, quindi anche il gioco è necessario che il gioco manifesti più inchini per far capire agli altri individui che si sta veramente giocando e non ci si vuole attaccare, perché è molto facile poi che il gioco degeneri in comportamenti diversi e quindi per questo motivo i coyote manifestano molti più inchini rispetto ad altri canidi. Per quanto riguarda i felini invece non abbiamo l'inchino, abbiamo altri comportamenti nel gioco come l'agguato, il balzo laterale, il balzo avanti seguito dalla fuga, però tutti questi comportamenti sono comportamenti tipici di contesti di lotta anche, quindi un comportamento che potrebbe far capire che questo animale vuole giocare, non vuole realmente attaccare è l'assenza di artigli, infatti al contrario dei canidi i felini hanno gli artigli retrattili, quindi se gli artigli non sono fuori vuol dire che non c'è la volontà di attaccare e di fare del male e quindi questo implica il fatto che potrebbe essere gioco e non un altro tipo di comportamento. Anche i gatti, in quanto felini e predatori, giocano tanto perché attraverso il gioco i gatti imparano a cacciare, quindi chi ha dei gatti sa l'importanza di dargli sempre dei giochi che in qualche modo imitino delle prede, perché per loro il gioco e la ricerca anche della preda è un comportamento molto importante che devono poter manifestare e appunto i felini utilizzano il gioco per imparare questo comportamento per loro fondamentale che è la caccia, infatti vediamo che nella prima immagine la madre porta una preda morta o comunque innocua o tramortita al piccolo e gli lascia la possibilità di giocare con la preda, quindi il piccolo acquisisce un certo tipo di familiarizzazione con questa preda, impara a manipolarla, e impara com'è fatta, successivamente gli porta una preda viva e il piccolo ha capito magari meglio come e dove attaccarla, finché poi imitando magari la madre nella caccia non impara anche lui a cacciare. Vediamo un altro video di ghepardi come esempio di questo comportamento. Qua vediamo che stanno familiarizzando, giocando con una preda morta. E vediamo che stanno anche un po' imitando la madre nel comportamento dell'agguato. Quindi la imitano, cercano di fare anche loro gli agguati, ma perché hanno già fatto prima la fase di familiarizzazione con la preda, quindi giocando il gioco è la prima fase per imparare la caccia. Veniamo ai primati, allora nei primati non abbiamo inchini, non abbiamo artigli, non abbiamo invito al gioco, come abbiamo un'espressione facciale, infatti la maggior parte dei primati comunica attraverso espressioni facciali. Vediamo che tutte queste specie, ma molte altre, manifestano questa espressione chiamata faccia da gioco o playface. Consiste nell'avere la bocca aperta e tenere visibili soltanto l'arcata dentale inferiore, quindi l'arcata dentale superiore è coperta dalle labbra. Ci potrebbe essere, secondo molti ricercatori, un'origine comune tra queste due espressioni, quindi la playface nei primati e la risata nell'uomo. Infatti queste due espressioni hanno sicuramente una somiglianza visiva, perché comporta la muscolatura del viso rilassata, la bocca aperta, i denti visibili. Una somiglianza anche uditiva, perché i primati quando giocano hanno una specie di grugnito ritmico che in qualche modo ricorda la nostra risata e hanno anche una semiglianza funzionale, perché quando un individuo gioca o ride, o quindi fa la playface, oppure sta ridendo, ha la volontà di mantenere un contesto giocoso o di coesione, quindi potrebbero avere un'origine comune queste due espressioni. Vediamo un altro video di playface. Se stiamo attenti alle bocche di questi scimpanzè, vediamo che continuamente loro all'interno del gioco manifestano la playface. La risata umana però non è da confondere con il sorriso. Infatti il sorriso umano sembra derivare da un'espressione facciale diversa nei primati, non più la playface ma questa espressione che si chiama bertit, che consiste nell'avere la bocca chiusa e i denti di entrambe le arcate visibili. Questa è sicuramente una semiglianza visiva tra le due espressioni, ma potrebbe esserci anche una semiglianza funzionale. Infatti noi sorridiamo quando siamo contenti, ma in realtà noi sorridiamo anche quando siamo in situazioni magari imbarazzanti, situazioni che vorremmo in qualche modo evitare. E infatti il bertit nei primati è un'espressione di sottomissione. La fanno quando c'è ad esempio un individuo dominante che li vuole attaccare, allora per evitare lo scontro mostrano i denti in questo modo, quindi mostrano questa espressione facciale per far capire che si stanno sottomettendo e quindi vogliono evitare l'attacco. Quindi ci potrebbe essere un'omologia tra queste due espressioni facciali. Vediamo altre specie, altri studi, ci sono molti meno dati sulle altre specie, la maggior parte dei dati in etologia sono sui primati e sui cani, soprattutto per quanto riguarda il gioco, però anche nel caso dei cetacei è stato dimostrato il gioco, in particolare la maggior parte degli studi riguarda i delfini. Loro giocano attraverso il gioco locomotorio, quindi con comportamenti aerei, quindi capriole, salti, tutti i comportamenti che vengono fatti al di fuori dall'acqua. I nuoti irregolari, quindi nuoto a testa in giù, capriole, pirouette all'interno dell'acqua o anche il surfing, quando cavalcano le onde delle imbarcazioni. Il gioco locomotorio può essere individuale e sociale. I cetacei giocano anche con oggetti, può essere sempre un tipo di gioco individuale e sociale. Possono giocare con oggetti naturali, come ad esempio alghe o piante acquatiche, oggetti artificiali quando si trovano all'interno di cattività, acquari, delfinari, eccetera. Con le bolle d'aria, infatti è stato visto che ad esempio i delfini nuotano a elica per far fondere tra loro delle bolle d'aria, ad esempio, oppure giocano con altri animali. In questo caso vediamo dalla foto una medusa, però giocano anche con altri pesci che sono urticanti e sembra che giochino con le meduse o con pesci urticanti per avere una specie di stimolazione tattile. Questa è la spiegazione che si dà a questo comportamento. Questo fa presupporre che loro sappiano quali sono gli animali urticanti e quali non lo sono. In questo video vediamo un esempio di delfini che giocano con una medusa. In pratica la medusa in questo caso non possiamo dire che stia giocando, questo non è gioco tra un delfino e una medusa, ma è venuta usata un po' come oggetto perché se la fanno proprio passare sopra per avere in qualche modo una stimolazione. Per quanto riguarda anche gli orsi, tutta la famiglia degli orsi, abbiamo dei dati soprattutto sull'orso bruno, sul resto c'è poco. Gli orsi ricordiamo però che sono animali solitari, quindi il gioco sociale non è molto presente se non in determinate fasi di vita in cui abbiamo delle aggregazioni tra gli individui. Infatti ad esempio nel caso della nascita, quindi una madre con i suoi piccoli o comunque tra fratelli si vengono a creare delle aggregazioni, però sono temporanee e in queste aggregazioni ci sono dei comportamenti di gioco. Può essere sempre un tipo di gioco locomotorio, quindi individui che corrono, si muovono a cerchio, oppure attraverso i movimenti delle zampe, delle zampate. Sono tutti comportamenti in realtà propri anche di contesti di lotta, però giocano perché quello che sembra distinguere il gioco dalla lotta è l'assenza di vocalizzi. Durante il gioco non vocalizzano, mentre durante la lotta sì, ma sicuramente anche il contesto, perché appunto essendo specie solitarie se due adulti si incontrano è molto facile che combattano piuttosto che giocare perché sono territoriali, se invece i cuccioli sono tra loro è molto facile che giochino, quindi già il contesto di per sé è determinante. Per quanto riguarda i roditori, anche loro giocano, non ci sono molti studi, anche i roditori attraverso il gioco sembrano riuscire a capire quali comportamenti sono accettabili dei quali non lo sono e c'è proprio una differenza di comportamento nel gioco, nei ratti, questo è stato visto, una differenza di comportamento nel gioco per quanto riguarda i dominanti e i subordinati. Infatti i dominanti giocando utilizzano proprio delle tecniche difensive per difendersi dagli altri, i subordinati invece quando giocano si girano a pancia in su, in posizione tipica dei cuccioli o comunque in posizione molto più subordinata. Per gli uccelli ci sono ancora meno dati, sembra che il tipo di gioco che facciano sia gioco soprattutto con strumenti, giocano attraverso il becco e manipolano strumenti col becco, sono abili manipolatori. Per quanto riguarda i pappagalli, riportando un po' anche magari quella che è stata la mia esperienza all'interno dello zoo lavorando con i pappagalli, posso dire che ci sono delle linee guida ben precise riguardo alla gestione di questi animali e infatti bisogna, raccomandano queste linee guida di fornire dei giochi che vengono poi chiamati in realtà arricchimenti ambientali e bisogna sempre cambiarli, cambiare materiale, cambiare forma eccetera per simularli sempre di più perché sono comunque animali molto intelligenti oltre che abilissimi distruttori per mantenere appunto sempre alta una motivazione a interagire con questi giochi. Il gioco è importantissimo anche come indicatore, infatti il gioco può indicare, la presenza o l'assenza di gioco può indicare le condizioni ambientali perché se noi pensiamo a un ambiente naturale che magari subisce delle ripercussioni da parte dell'uomo quindi un ambiente che diventa frammentato, ad esempio, gli animali fanno più fatica anche a cercarsi il cibo quindi hanno molto meno tempo per giocare, sono molto più stressati, quindi il non gioco in questo caso diventa un indicatore delle condizioni ambientali ma anche se pensiamo a una situazione di cattività, dell'ambiente di cattività, se ci sono problematiche sia dell'ambiente per come è strutturato ma anche del gruppo sociale, gli animali non giocano quindi il non gioco è sempre un indicatore di stress sia ambientale che psicologico perché se ad esempio l'animale è stressato ha problemi, cioè è stressato anche psicologicamente, se il gruppo sociale non funziona si crea uno stress psicologico che comporta una diminuzione del gioco o un non gioco o un gioco diverso quindi il gioco è importante anche come indicatore. Adesso qui faccio vedere un video un po' per sfatare un mito del gioco tra specie diverse. Qui vediamo dei cuccioli, c'è uno scimpanzè, ci sono due cuccioli di tigri e un cucciolo di lupo che giocano tra loro. Possiamo capire che giocano perché vediamo la play face che sta facendo lo scimpanzè anche i felini non credo abbiano gli artigli il lupo scodì insala quindi è una situazione tranquilla. In realtà però questa è una condizione assolutamente artificiale perché intanto lo possiamo capire dal fatto che lo scimpanzè è legato e sicuramente questi tre animali in natura non si incontrerebbero mai perché uno è africano lo scimpanzè, la tigra asiatica e il lupo europeo e quindi discorrono situazioni di zoo ma negli zoo teoricamente non vengono messe insieme specie diverse, di habitat diversi quindi questa è una situazione in cui sicuramente l'uomo interviene tantissimo basta vedere appunto che lo scimpanzè è legato in cui è una situazione un po' forse anche spiacevole e praticamente vediamo che questi sono tre cuccioli perché questi tre animali se si trovassero tre adulti di queste tre specie sicuramente non giocherebbero tra loro e quindi in realtà questi si stanno giocando ma perché i cuccioli tra loro sono propensi a giocare lo scimpanzè e il lupo sono animali estremamente sociali quindi messi insieme magari giocano non possiamo sapere se prima fossero stati tenuti ad esempio in condizioni di isolamento quindi in realtà il gioco tra specie diverse ha un comportamento estremamente raro può avvenire in certi casi può avvenire in natura però ci devono essere delle condizioni determinanti cioè devono vabbè innanzitutto devono vivere nello stesso ambiente perché sennò non giocherebbero devono avere dimensioni simili un'età simile e ovviamente segnali di gioco simili perché sennò non riuscirebbero a capirsi tra di loro e queste due specie sono un cerco piteco e un colobo sono stati osservati a giocare sono due specie arboricole che vivono in Africa e ci sono dei dati che sostengono che ci sia un'attività di gioco tra loro due però specie diverse è difficile che giochino io qui ho messo il cane e il gatto che si possono trovare nello stesso ambiente cioè in un ambiente domestico sono specie anche di dimensioni simili molte volte però in realtà è difficile che si crei un rapporto idilliaco tra un cane e un gatto perché nonostante abbiano dei comportamenti simili perché magari le orecchie all'indietro vogliono dire che c'è tensione che l'animale ha paura oppure un ringhio può voler dire un'intenzionalità di attaccare hanno sicuramente un diverso significato della coda perché un gatto che scodinzola vuol dire che è spaventato che vuole attaccare un cane che scodinzola vuol dire che vuole giocare quindi se si incontrano il cane pensa che il gatto voglia giocare il gatto pensa che il cane lo voglia attaccare quindi potrebbero nascere dei problemi inoltre cioè nonostante vivendo insieme questi animali potrebbero alla lunga col tempo imparare a comprendere i diversi segnali di gioco quindi a convivere si crea lo stesso rapporto un po' strano perché hanno proprio sistemi sociali diversi perché il gatto è un animale tendenzialmente solitario non è un animale sociale può essere sociale in certe condizioni perché ha bisogno di certe risorse come magari nelle colonie feline però tendenzialmente il gatto è un animale indipendente un animale solitario invece il cane ha bisogno del contatto con l'uomo del contatto magari con altri cani quindi è un animale invece assolutamente sociale quindi è difficile che tra queste due specie si instauri un rapporto possono giocare ma magari dipende molto dal carattere del gatto più che dal carattere del cane ci sono gatti più propensi e i gatti invece assolutamente più indipendenti l'unico rapporto l'unico esempio di gioco tra specie diverse se ampiamente documentato è quello tra l'uomo e il cane l'uomo e il cane giocano tanto e ci sono numerosi libri anche che sostengono l'importanza del rapporto tra l'uomo e il cane uno di Lorenz uno di Mainardi che è un etologo italiano molto importante sul rapporto uomo-cane noi abbiamo addomesticato il cane nei milioni di anni per far fronte più o meno tutte le nostre necessità dal cane da caccia al cane da guardia al cane da pastore il cane guida per ciechi il cane da soccorso alpino il cane antidroga tantissime funzioni la funzione più importante ovviamente è il cane come animale da compagnia infatti si crea proprio col proprio cane un rapporto molto esclusivo col tempo perché il cane col tempo impara a capire i segnali del padrone i comandi del padrone come rapportarsi col padrone e la stessa cosa il padrone impara a conoscere il suo cane impara i segnali del cane impara quando un cane vuole giocare e questo rende possibile il gioco tra queste due specie infatti come possiamo vedere dalle immagini ci sono numerosi studi che sostengono che un uomo si scelga il suo cane sulla base anche dell'aspetto fisico secondo molti studi un uomo tende a scegliere il cane sulla base della somiglianza fisica questo a sostenere ancora di più l'esclusività del rapporto che si crea tra queste due specie inoltre ci sono studi molto interessanti che riguardano il cane proprio come pet therapy nel senso che ad esempio sono state considerate persone che hanno avuto degli infarti e hanno visto che persone che hanno avuto degli infarti a cui sono sopravvissuti che avevano dei cani hanno avuto molte meno recidive della malattia rispetto a persone invece che non avevano cani questo perché il cane comunque costringe a uno stile di vita sicuramente più sano perché avere un cane costringe la persona a portarlo fuori quindi a fare dell'attività fisica più volte al giorno ma anche crea situazioni sicuramente meno stressanti perché il poter accarezzare un cane il potersi rapportare con un cane sicuramente rende la persona meno stressata ok abbiamo visto il gioco più o meno negli animali come funziona andiamo a vedere come funziona nell'uomo perché l'etologia in realtà è importante anche per l'uomo perché viene utilizzata tanto l'etologia negli umani perché serve per dare una base adattativa a tutti i nostri comportamenti una base evolutiva a tutti i nostri comportamenti il gioco nell'uomo alla fine ha le stesse funzioni che abbiamo visto per gli animali il gioco nei bambini serve ad acquisire abilità risolvere problemi riduce la frustrazione perché come abbiamo visto prima nel gioco c'è un basso rischio di fallimento nel gioco possono tentare combinazioni nuove comportamenti nuovi facendo pratica ed esercizio quindi attraverso il gioco i bambini manifestano la loro curiosità manifestano l'esplorazione possono rafforzare le relazioni sociali perché giocando insieme anche i bambini che non si conoscono imparano a conoscersi ad esempio il gioco rende i bambini più consapevoli del fatto che c'è una gerarchia di dominanza perché anche nell'uomo comunque una gerarchia c'è e inoltre favorisce l'inserimento dei piccoli o dei giovani anche nella società se noi serviamo delle dinamiche di gioco tra umani tra bambini possiamo quindi anche osservare che relazioni hanno tra loro quanto si conoscono ad esempio e anche che padronanza hanno utilizzare gli oggetti di gioco e anche la tipologia di gioco permette di imparare nuove abilità infatti se io imparo a giocare a palla da sola e si aggiunge una persona il gioco aumentano le variabili di gioco quindi il gioco si complica se il gioco in gruppo aumentano ancora di più le competenze sociali quindi il gioco si complica ulteriormente per finire il gioco di squadra in cui c'è anche una suddivisione dei ruoli quindi anche le dinamiche di gioco sono importanti per accrescere le abilità individuali il gioco viene usato tanto anche come strumento educativo nei bambini perché ad esempio i giochi di ruoli i bambini che giocano alla parrucchiera al ristorante così alla maestra e questi giochi fanno sì che i bambini comprendano che nel mondo degli adulti ci sono dei ruoli quindi facilita il mettersi nei panni dell'altro e facilita quindi l'empatia verso le altre persone i giochi permettono di esplorare il mondo i giochi esplorativi permettono di esplorare il mondo con il proprio corpo quindi di capire anche i propri limiti nei giochi ci sono delle regole quindi vengono resi consapevoli dell'importanza delle regole e inoltre il gioco dà anche la capacità di creare un ordine a partire da un caos infatti basta vedere che ci sono molti giochi che vengono tantissimo usati dai bambini come i Lego e i Puzzle che fanno sì che permettono di ordinare degli oggetti e se questi giochi vengono fatti insieme si sviluppa anche uno spirito di collaborazione e di cooperazione tra bambini inoltre nella nostra società il gioco viene tantissimo usato come intrattenimento infatti basta pensare ai programmi televisivi quanto spesso il gioco è presente anche negli orari di punta ad esempio quando le persone mangiano il gioco è importantissimo nell'uomo per rafforzare i legami sociali è un ruolo fondamentale anche nei vari eventi che per facilitare la conoscenza di individui che magari non si conoscono o per rafforzare i ruoli infatti dai compleanni qui si fanno vari giochi come nascondino centri estivi o comunque situazioni magari di giochi a scuola oppure giochi tra gli amici o anche la famosa tombolata di Natale in cui magari si cerca di consolidare un po' ad esempio il rapporto con i parenti con la famiglia ok io ho concluso questa è la bibliografia che ho utilizzato e vi saluto con questa frase di Nice che dice che maturità dell'uomo significa avere ritrovato la serietà che si metteva nel gioco da bambini grazie grazie mille Ilario per questo bellissimo intervento sul gioco adesso è tutta vostra per le domande nessuna domanda? grazie mille Ilario grazie mille Ilario grazie mille Ilario allora cioè probabilmente bisogna distinguere quello che è gioco da quello che magari è sport o addirittura lavoro cioè perché ok è vero che si crea competizione nel gioco però un conto è se io e te giochiamo a bigliardino con altre due persone ok se perdiamo ce ne facciamo una ragione insomma non è che succede qualcosa, se invece si va a pensare a un gioco di squadra molto più complesso, non so due squadre di calcio da un certo livello che magari le persone in quel contesto lavorano, cioè quello diventa proprio lavoro, lì è importante il risultato, è importante che la squadra vinca e quindi più che il divertimento di per sé diventa importante il risultato, quindi lì la competizione aumenta tanto e invece se si gioca, ok, ovviamente uno vuole vincere, però è molto importante che noi giocando ci divertiamo più che la vittoria di per sé poi dipende molto dal carattere della persona e da come uno prende la sconfitta, però tendenzialmente dovrebbe essere così No, vabbè, credo che, vabbè, il carattere della persona e da come uno prende la sconfitta, però tendenzialmente dovrebbe essere così No, vabbè, credo che, vabbè, i cani, probabilmente noi che abbiamo dei cani riusciamo a capire in modo semplice di solito il loro comportamento cioè quando giocano i cani fanno l'inchino, quando vogliono invitarci al gioco è abbastanza inequivocabile come segnale magari loro potrebbero malinterpretare il gioco nei nostri confronti, mi viene da pensare ad esempio alla voce se noi magari urliamo per giocare, loro potrebbero non capire che quest'urlo è dovuto a un urlo giocoso piuttosto che a un urlo perché magari non vogliamo giocare o non lo so, per qualunque tipo di motivo la voce potrebbe essere sicuramente un fattore determinante nella comprensione del cane il tono di voce è importantissimo, se tu hai un cane gli puoi dire qualunque cosa con un tono di voce gentile se gli fai un complimento contro di voce arrabbiato ovviamente il cane non capisce che gli stai facendo un complimento questo potrebbe essere un segnale però credo che vivendo insieme magari col tempo i cani imparino a conoscere molto bene i padroni, cioè quasi quanto noi magari impariamo a conoscere bene loro quindi secondo me è proprio tutta una questione di trovare magari un equilibrio col proprio animale e col tempo se tu un animale l'hai appena preso ovvio che lui non ti conosce magari tu capisci più facilmente lui perché lo sai come fa un cane a giocare perché magari ne hai già avuti prima o li hai già visti se ti arriva un cucciolo in casa e sei una delle prime persone che vede all'inizio fa un po' fatica a capire però poi quel tempo si dovrebbero abituare allora sembra che ci sia, cioè di sicuro la spiegazione c'è sempre quella che si è dato al fatto che c'è questa memoria fotografica così sviluppata cioè incredibilmente sviluppata rispetto alla nostra potrebbe essere il fatto che loro hanno bisogno di formarsi delle immagini mentali molto chiare perché sono animali fruggivori, mangiano frutta e quindi è importante che riconoscano quali sono anche le piante tossiche da quelle non tossiche ad esempio quindi la memoria fotografica potrebbe essere molto importante come riconoscimento loro magari apprendono già da piccoli la forma di una pianta o di un frutto così e questa immagine se la fissano nel tempo in modo da riuscire a ricordarsi questa informazione o anche dove sono localizzate certe tipologie di piante ad esempio quelle che possono mangiare oppure non mangiare questo potrebbe spiegare il fatto che abbiano questa memoria fotografica così sviluppata e magari nell'uomo serve meno questa tipologia di memoria e quindi noi non l'abbiamo così sviluppata come loro No, quello scimpanzè non è autistico perché diversi dati e diversi studi hanno fatto vedere che più scimpanzè rispondono allo stesso modo con il bambino autistico è una bella domanda cioè con i bambini normali più sono piccoli più sono capaci di fissarsi le immagini poi questa capacità viene persa col tempo con il bambino autistico bisognerebbe andare a documentarsi di più o a provare Grazie mille Probabilmente sono abituati ad avere talmente tanto che accontentarsi magari delle cose più semplici come giocare a palla con gli amici non sono più consapevoli del valore di questi comportamenti mi verrebbe da pensare Cioè comunque anche negli animali è stato visto che i figli di genitori dominanti che potrebbero essere un po' come i più ricchi magari nell'uomo giocano di più rispetto ai figli di genitori subordinati che potrebbero essere in qualche modo magari confrontati con quelli più poveri e quindi magari il fatto che giocano di più o hanno molte più cose hanno un po' perso forse il valore delle cose più piccole e delle cose più semplici potrebbero essere due ospedali Vi ringrazio di essere venuti qua stasera il prossimo mercoledì invece parleremo di cucina e se ci sarete scoprirete perché a volte non vi vengono le ricette come volete voi ringrazio ancora Ilaria e vi auguro buona serata Grazie mille Grazie mille Grazie mille